direttamente nel salotto del borgoriccio parliamo di story rider e di quest'anteprima che si terrà il 30 agosto al palazzo dei concili sul palazzo baronale di torchiara come nasce questa manifestazione come sta crescendo di anno in anno perché siamo giunti ormai alla quinta edizione siamo qui nel salotto di borgoriccio perché proprio da qui che partita cinque anni fa l'idea di trasformare torchiara nel salotto delle storie quindi non solo borgoriccio ma anche il palazzo baronale la piazza torre la colombaia di volta in volta trasformiamo gli angoli più suggestivi di questo paese bellissimo nel salotto nel salotto delle storie l'anteprima quest'anno racconterà la storia di sei artisti e la storia di sei installazioni perché da story rider parte un nuovo progetto percorsi d'arte contemporanea sei artisti realizzeranno gratuitamente e offriranno diciamo a sei comuni del cilento interno le loro installazioni permanenti cosicché si costituirà un nuovo percorso che correrà parallelo lungo il mare in tutti questi comuni i temi del story riders dal 4 al 6 ottobre saranno innanzitutto il riscatto dedicheremo una giornata al riscatto dei giovani del quartiere sanità a napoli e alle aziende che hanno osato sfidare in calabria l'andrangheta creando delle start up di grande innovazione tecnologica il secondo giorno invece sarà dedicato al turismo lento io da dieci anni ho aperto le porte di questa dimora borgoriccio all'ospitalità e da dieci anni parlo di slow holiday quest'anno è il tema ufficiale dell'unesco ecco quindi che parleremo di gatto in sardegna piuttosto che di altri personaggi che verranno a raccontare le loro esperienze di turismo lento e poi infine la terza giornata premieremo i racconti che sono arrivati molto copiosi quest'anno al concorso di idee di storie che si chiama common people sempre più comuni aderiscono a questo progetto soprattutto attraverso l'arte le installazioni artistiche che ci saranno nel cilento soprattutto dell'entroterra quali comuni hanno aderito ma praticamente abbiamo cominciato da capaccio cicerale prignano prignano laureana torchiara e rutino quindi praticamente stiamo andando in come dire secondo un itinerario proprio sempre verso più a sud quindi l'anno prossimo lo proporremo ad altri cinque sindaci i sindaci che sono rivelati subito molto disponibili hanno capito che cosa voleva dire questo hanno capito che questo percorso d'arte contemporanea costituirà una piccola diciamo attrazione per quelli che sono le persone che vanno sempre sul mare a salire in questi paesi magari dopo i bagni eccetera e quindi magari anche a consumare nei ristoranti locali la loro cena e così e quindi a popolare un po' questo cilento interno che a mio giudizio è veramente fantastico da cinque anni ci supporta il parco nazionale del cilento ci supporta la banca dei comuni cilentani da sempre al nostro fianco ci ha sostenuto anche l'unione dei comuni cilentani da quest'anno partecipano anche la sicme che è una società che produce energia qui in zona convergenze e soprattutto santo miele che è un'azienda di grandissima grandissime eccellenze noi siamo molto onorati di questi contributi che ci permettono di fare le cose sempre meglio e sempre con più diciamo visibilità il clou dell'evento si terrà però in ottobre sempre per questa destagionalizzazione turistica che è un po' un must per Story Rider Sì perché tutta la nostra attività noi abbiamo fondato un'associazione culturale che si chiama Ergo South e l'associazione si propone di proprio valorizzare e incrementare tutte le tradizioni, la cultura tutto questo grandissimo patrimonio ancora purtroppo poco conosciuto rispetto alle sue potenzialità quindi da Story Riders partiamo con percorsi d'arte contemporanea quest'anno abbiamo pensato di spostare la data diciamo del cuore proprio della manifestazione dopo l'anteprima al 4, 5 e 6 ottobre Prima artista direttamente da Vienna tra l'altro insegnita dalla città di Vienna artista dell'anno, un riconoscimento non è la prima volta però che qui nel Cilento e soprattutto qui al Borgoriccio di Torchiara Quasi vent'anni fa sono venuta la prima volta e ho conosciuto Angela Riccio quasi vent'anni fa e è cresciuta in amicizia e per questo sono tornata molto spesso Una decina d'anni fa tra l'altro proprio qui al Borgoriccio tanti artisti e studenti di arte hanno prodotto delle opere d'arte che poi sono state anche esposte al Parazzo Baronale dei Concili dove poi si terrà effettivamente l'anteprima di Story Rider Si parla un po' di quell'esperienza Quasi dieci anni fa abbiamo iniziato una collaborazione tra Angela Riccio Riccio e Borgoriccio e l'Accademia dell'Università degli Arti Applicati di Vienna Io insegno la fotografia come medium, come facoltà di belle arti e siamo arrivati con 23 studenti e 4 colleghi per 15 giorni e abbiamo sviluppato i progetti artistici sul luogo discutendoli ogni giorno e alla fine è stata fatta un'inaugurazione di una piccola mostra al Palazzo Baronale Questa è stata un'esperienza molto interessante e importante per gli studenti è stata la prima volta di passare tanto tempo in Italia del Sud più sud di Roma, questo è normale e per loro hanno scoperto un mondo antico, un mondo molto diverso dell'Italia del Nord e dell'Europa del Nord In compagnia di Franco Alfieri, uno dei sindaci che ha aderito, fortemente voluto questo incontro Story Rider, soprattutto per quest'anteprima che si terrà proprio in questo fantastico Palazzo Baronale di Torchiara finalmente nel Cilento, nel cuore pulsante del Cilento Sì, come sindaco di Capaccio Pesso, ben volentieri, ho dato l'adesione per la prima volta della città di Capaccio Pesso ma in un progetto che conosco benissimo D'altra parte le mie origini sono di Torchiara in questo Palazzo Baronale che mi è caro perché da sindaco ho partecipato al recupero quindi ho dato il mio interesse, la mia passione, la mia forza anche quando ero sindaco a farlo Angela Riccio ha avuto questa grande intuizione che ormai si è allargata a gran parte dei paesi del nostro Cilento questa bella manifestazione, questa bella iniziativa che si allarga, cresce la cultura, cresce il turismo e cresce il territorio Quanto conta sostenere iniziative come questa di Story Rider? Ma non conta, bisogna farle una necessità credo che sempre di più la cultura sta diventando la leva indispensabile e formidabile per questo territorio credo che sia l'unica leva che ovviamente si completa con le altre cose ma la cultura resta quella migliore, quella più sostenibile quella più intelligente sulla quale dobbiamo puntare e mettere ogni energia migliore che abbiamo sul territorio Al centro di Story Rider tanta cultura ma anche tanta arte e soprattutto le imprese del territorio Sì, ma la cultura mette insieme tutti perché la cultura non ha confini nella cultura c'è l'arte, c'è il sapere c'è l'artigianato, c'è il turismo, c'è il sapere c'è l'impresa c'è l'anima del territorio e nell'anima c'è tutto quello che facciamo e quindi nella cultura ci ritroviamo un po' tutti e c'è anche il nostro futuro C'è l'anima del territorio C'è l'anima del territorio